Bentornati, grazie a Carfax per aver sponsorizzato questo video. Oggi proviamo una Suzuki Swift 5 serie, motore aspirato da 136 CV, cambio manuale e una chicchetta ragazzi con un rapporto peso-potenza che fa davvero divertire alla guida. Però prima spazio a Carfax. Quando si acquista un'auto usata è fondamentale fare una scelta informata. Carfax offre la possibilità di avere informazioni dettagliate sulla storia del veicolo, fornendo dati su danni, chilometraggio e precedenti proprietari. Tra tutti i servizi che ho provato inerenti a questi report, Carfax è in assoluto il migliore. E perché? È ricchissimo di dati ed è molto completo, con anche un'utilissima scheda tecnica di tutti i dati del veicolo che anche chi è esperto certe cose non le sa. È bene saperle. È importante usare Carfax come parte di un processo molto più ampio di valutazione di un'auto. Cioè non basta solo il report per avere la garanzia che l'auto sia a posto. Ma ispezionare l'auto, quindi andarla a vedere di persona, provarla, chiedere tutte le informazioni possibili al venditore. Insomma tante cose da valutare. Oltre alla documentazione. Ecco tutti questi passaggi sono fondamentali per garantirci un acquisto di un'auto supersonica. Spesso ragazzi troviamo l'auto dei nostri sogni a centinaia di chilometri di distanza. Quindi è utile informarci preventivamente e questo lo possiamo fare grazie a Carfax. Ad esempio la Swift in prova oggi risulta aver subito un incidente sul lato sinistro. Magari è un banalissimo tamponamento, un paraurti da riverniciare, nulla di che, capisci? Però grazie a Carfax potremmo chiedere spiegazioni al venditore e magari trattare un po' sul prezzo. Ragazzi vi lascio qui sotto in descrizione un codice sconto TORRISI20, quindi 20% di sconto su tutti i report che personalmente ho trovato utilissimi. Torniamo al video. Felicissimo di aver portato un motore aspirato. L'ultima volta sul canale sono stati addirittura 3 M3 e 46. Lo stile di guida che si ha col motore aspirato è bellissimo, mi piace molto perché puoi guidare con il motore molto su di giri. È bellissima! Puoi fare cantare la macchina nel vero senso della parola. Sembra al giorno d'oggi che se non c'è il turbo non si possono più comprare queste macchine. Ragazzi io vorrei che cambiasse idea perché veramente questa piccola perla, questa Suzuki Swift, che poi è l'ultima con il motore aspirato, è veramente eccezionale da guidare. Un'altra cosa, un'altra caratteristica, un altro pregio che ho riscontrato è il ponte torcente, che abbinato all'assetto Bilstein regala un handling alla macchina davvero kart. Come dice Francesco, il go-kart feeling ce n'è come, ce n'è da vendere. Voglio trovare subito i difetti. Il cambio, non mi piace assolutamente il feeling, sembra un giocattolo, Manuel. Il fatto che abbia tutta questa escursione a marcia inserita è strano, sembra quasi che si affolle in ogni marcia che metti. Il famoso mestolone. Della nonna. Però ti dirò che sono veramente, veramente felice di essere a bordo di una Swift. Tu hai fatto quella turbo? Sì, ho fatto quella col motore booster jet, ibrido. Qui invece siamo a bordo di un bell'aspirato 1.6 con 136 cavalli, che secondo me non ci deluderà. Dici? A me la Swift piace, cioè io mi sono innamorato da quella volta che abbiamo fatto quella giallona. Il proprietario Francesco ce ne ha parlato tanto di questa macchina, è un po' che ci fa la corte dicendoci ragazzi provatela, provatela perché al di là delle prestazioni del motore comunque è molto bella da guidare. Grande handling, go-kart feeling, ha parlato, si è sbilanciato dicendo go-kart feeling. E io che vengo dalla Mini a questo punto ho colto l'occasione e mi son detto sì, perché no, perché non portarla. Voglio sentire lo sterzo. Francesco, il proprietario, ne ha parlato bene nonostante ha dichiarato spudratamente che questo è uno sterzo elettrico, ma insomma lo sappiamo, noi siamo amanti degli sterzi idraulici. Assolutamente. Però partendo dai, insomma, dal diametro dello sterzo che mi sembra un pochino too much, un po' grande, il feeling dello sterzo elettrico non è il massimo. Non mi fa impazzire Manuel perché lo sterzo idraulico fornisce una risposta più diretta e un feeling più tangibile alla guida. Questo è un po' il motivo. Non che lo sterzo elettrico non vada bene, non mi farò intendere, vanno benissimo per tanti aspetti, tra cui la sicurezza, l'abbiamo visto, no? Diciamo che nell'era elettronica e della modernità, ovvio che gli ADAS vanno a coppia con uno sterzo elettrico. Il fatto è che tutta questa elettronica rende, non so se anche per te è lo stesso, ma guidare un'auto con lo sterzo elettrico, entry level, non parliamo di supercar, In questo caso sì, in questo caso sì. Dà un feedback molto finto e questo a me dispiace. Perché sei abituato a guidare macchine di un certo livello con lo sterzo idraulico, però se tu sali a bordo, come mi è successo per esempio qualche giorno fa, di una macchina moderna, una supercar moderna, come per esempio può essere l'M3 Touring, che porteremo a breve qui su Officina del Pilota, cambi sicuramente idea, perché quelli sono stati studiati nel dettaglio. Se tu pensi che le supercar o le auto che fanno pista, che vanno a correre, possono attraverso gli sterzi elettrici essere tarati per come proprio vuole il guidatore, il feedback, la risposta, il carico con l'aumentare della velocità. Ovviamente la proporzione è diretta, quindi più un'auto è raffinata e più costa, ovviamente migliori saranno lo sterzo, i freni e tutto il resto. Spendo poco mi dà tanto, perché adesso vuoi tanto, ma spendi tanto. È un po' questa è la direzione che sta prendendo il mondo dell'automotive. Quindi tu avresti visto uno sterzo idraulico qua, piuttosto che uno sterzo elettrico? Diciamo che quest'auto è relativamente nuova, quindi me la sarei aspettata esattamente così. Ovvio che se avessi avuto un cambio un pochino più comunicativo e lo sterzo sarebbe stato molto più divertente. Anche perché nella politica di questa macchina c'erano già i primi punti a favore degli amanti della guida. Motore aspirato che lo porti su di giri, la fai cantare alla macchina che fai i forgipistoni. Perché è una macchina pensata per andare al limite e allora forse sarebbe stato più in linea con la politica, con la progettazione, il concetto base di questa macchina avere uno sterzo idraulico, probabilmente. Voi che ne pensate? Dateci il vostro giudizio qui sotto e noi nel frattempo torniamo a bordo. E sentiamo questo aspirato come sale su. È bellissima, cacca! Bello l'appoggio, tra l'altro questi sono Bilstein, usciva proprio dalla fabbrica con questo kit. Con i due o tre accorgimenti direttamente da casa madre che l'hanno resa un po' più sportiva, tra cui anche il pistone forgiato. Assolutamente sì, il pistone forgiato, ho il squirter, poi ovviamente qui abbiamo l'aspirazione a fasatura variabile e il condotto di aspirazione. Mamma mia! Dietro il culo segue perfettamente, non parte, eh! Ma ci sono i controlli? In magnesio! Bella, cacchio! Ci siamo divertiti così tanto perché la chiave di un divertimento è sempre quello, il rapporto peso-potenza. C'è la voglia a dire e a fare, è quello, questa macchina pesa sui mille chili. Ah, ecco, vedi. Ok? La coppia, come dice Francesca, è quella di un rasoio elettrico, cioè 160 newton metri. È un motore aspirato, dai. Però, essendo un 1.6, il rapporto che sconvolge è che ha 86 cavalli litri. Ah, ok, ecco. Il bello è proprio la guida. Noi siamo appassionati di motori, quindi, al di là dell'elettrico che non tollero, tutto ciò che è termico, anche diesel, io lo voglio provare. Perché non posso giudicare un'automobile se non l'ho guidata prima. E se non l'ho guidata qui, su questa strada che ormai è diventata la nostra strada, si può dire così. C'è un bel grip, ci sono curve, ci sono sali e scendi, ci sono avvallamenti, sconnessioni, curve lente, curve veloci. C'è tutto su questo tratto per poter giudicare e far esprimere ogni macchina al meglio. Ha un impianto frenante di serie questa macchinina che Francesco vuole giustamente cambiare, perché nel momento in cui si va in salita è tutto ok, ma ora che stiamo scendendo abbiamo notato che la corsa del pedale si allunga un pochettino. Non c'è né un pompante importante, né un tubo in treccia, quindi, insomma, è normale che poi i liquidi si scaldino e la corsa del pedale si allunghi un pochettino. È aiutata la frenata dal fatto che questa macchina sia estremamente leggera, però, dai, sul freno necessiterebbe di una grey. Bella! Bello l'appoggio! Dai! L'appoggio è fantastico, dicevo, lo sterzo è progressivo, avrei gradito uno sterzo idraulico, ovviamente. Il diametro l'avrei pensato un paio di centimetri più stretto, però poi vedi, più la guidi, anche da passeggero ne riconosco il DNA, più la guidi più ti piace. È vero! Senti che bella qui, quando lasci che non parte dietro. Giù, 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 giù! Bellissima, bellissima! Beh, ragazzi, l'assetto originale di questa Swift è pazzesco! Io diciamo che sono partito prevenuto, eh, cioè, sapevo che mi sarei divertito. Dopo quella che abbiamo provato noi, benché fosse irrita. Sì. Cioè, mi ha lasciato un'ottima sensazione, quindi, ovviamente, andando indietro con le versioni, ovvio che il divertimento è maggiore. La versione che hai guidato tu sul canale l'anno scorso aveva un cambio più secco. Però, guarda, alla fine, dai, il DNA di una macchinina così mi ricordo anche quando guidavo le Uno Turbo con questi cambi che sembrano veramente che si muovono da tutte le parti. In realtà poi non abbiamo mai sbagliato una marcia, sempre efficaci. Questa è un'auto di poca apparenza, ma di tanta sostanza. Quindi, per me è promossa a pieni voti, ma mi sarei davvero dispiaciuto se non fosse così. Perché io avevo tante aspettative su quest'auto. Capisco pure perché magari hanno messo i pistoni forgiati e l'oil squirter. Non per fare chissà quale elaborazione, ma perché questa da quando la accendi a quando la spegni sta a cannone. È fuoco, stai sempre a fuoco perché ti porta a guidare così. È vero. È un motore un po' più affidabile, un pochino più robusto ed è giustissimo. Io queste cose, questa mentalità che hanno i giapponesi su tanti progetti, l'adoro. Gli abbiamo tirato il collo da paura e la temperatura dell'acqua. È tutto sotto controllo, sembra che davvero siamo andati a fare una passeggiata. Sul tratto di guida un po' più concitata, prima con due S, una consecutiva all'altra, devo dire che anche lasciando il gas, il posteriore seguiva perfettamente. Non ti tradisce mai. Insomma, è messa giù veramente bene. E parliamo di una macchina tutta originale. Il bello è proprio questo. 1000 kg di puro divertimento. 136 cavalli, newton metri, neanche ricordo il numero ma sono pochi, ma da guidare è divertentissima. Dà tanta sicurezza, eh? Tanta. È strano che una macchina così piccola dà questa sensazione di sicurezza. Sì, è vero. Secondo me, ovviamente, dopo i 150, non avendo un'aerodinamica adeguata, magari potrebbe dare la sensazione di tenere meno. Ma non ci va. Più forte di questo, cioè questa macchina che fa i 180 all'ora. No, la velocità massima è quasi 200. Ah, ecco, vedi? Dai, a 200 all'ora puoi spingere proprio a cannone, pure senza lettoni e cose del genere. Bella. Ragazzi, è sempre un piacere avervi qui con noi. Iscrivetevi al canale, andate a vedere lo store online, comprate magliette, belpe, cappellini. Ma sì, guarda quanto sono belli poi. E poi, dal nord, dal sud, dalla Sicilia, dalla Sardegna, iscrivetevi al canale. Ciao belli. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Grazie a tutti.